Cacà che senza pensarci serve Pato, controllo di petto del papero dribbling secco su Wifalucci e sinistro che fulmina Frey, Milan in vantaggio grazie al quarto gol in campionato del suo nuovo fenomeno brasiliano 4 reti segnate in sole 6 gare e questa è la prima lontana da San Siro Splendido il lavoro nel traffico di Pato che dopo il controllo di petto è bravo a tagliare fuori Wifalucci in dribbling e frentissimo nel momento decisivo davanti a Frey Frentino 0, Milan 1